Salve a tutti amici. Sono il ricercatore indipendente di Emiliano Babiloni. Sono molti giorni che sto praticamente effettuando delle ricerche ed analisi continue attraverso un sistema di controllo e di analisi permanente effettuata da me, ovviamente, con le mie strumentazioni e con le mie sistemi avanzati che servono proprio per effettuare una sorta di analisi che devono essere molto credibili e molto attendibili. Purtroppo in questi giorni sto cercando di capire per quale motivo un certo magistrato, ex magistrato di Roma che dicono che è stato praticamente sottoposto a una sorta di controllo mentale monarch ed MKUltra il quale ho cercato di contattare perché lo volevo aiutare facendo delle analisi ambientali, elettromagnetiche ed analisi con microfoni professionali e ambientali per poter vedere se veramente all'interno della sua abitazione o sul suo corpo venivano irradiate delle frequenze chiamate frequenze ad armi ad onde convogliate che creano una destabilizzazione del ragionamento logico portando a un sistema deviato di realtà cosciente. Ovviamente molte persone hanno contattato questo ex magistrato per dirgli che io sto creando delle conferenze sto facendo dei video, sto aiutando le vittime del controllo mentale ho creato un'associazione a Roma che si è unita a un'altra associazione molto grande che può tutelare le vittime del controllo mentale le vittime del sistema Monarch, le vittime del sistema MK Ultra in tutta Italia ma questo purtroppo magistrato sta ex magistrato perché è stato mandato via dalla magistratura perché è considerata una persona malsana di mente da come ho letto su molti incartamenti e su molte testimonianze che sono state postate su Youtube da persone, non so, suoi amici anche avvocati che lui ha o aveva che praticamente lo stanno tutelando in un certo modo perché ovviamente la magistratura di Roma vuole trovare un tutore cioè cercare di non fargli fare a questo magistrato magari dei gesti disperati questo ex magistrato dei gesti disperati perché ovviamente dice cose molto strane sembra che lo stanno pilotando per farlo diventare proprio un disinformatore a tutti gli effetti ovviamente questo magistrato, ex magistrato mette su internet delle anomale registrazioni fatte con microfoni scadenti che non si riescono neanche a capire queste registrazioni sembrano fatte proprio con dei programmi per distorcere l'audio distorcere la registrazione proprio per non far capire niente a chi ascolta ma ci sono degli analizzatori audio con scansione biometrica e sono in grado di digitalizzare l'audio della sua registrazione che è fatta veramente in un modo molto scadente con microfoni scadenti e estrapolare le reali parole allora io ho fatto quest'analisi e ho analizzato queste sue registrazioni perché lo volevo difendere questo ex magistrato che tutti attaccano che tutti dicono sul web che è una persona malata di mente che è un visionario un disinformatore addirittura qualcuno ha detto che è colluso con la massoneria deviata e che sta facendo tutto questo perché vuole apparire sui social oppure sul web perché ha creato un anomalo partito che ovviamente non vede nessuno che nessuno si interessa di questa cosa a me mi dispiace vederlo così buttato giù questo ex magistrato che nessuno lo segue più neanche sui canali di YouTube pensate che io sono sul mio primo canale di YouTube Angeli Custodia e Mk Oltre Italia ci sono quasi 3500 persone che mi seguono con oltre un milione e mezzo di ascolti totali e abbiamo riscontrato che sul mio blog vittime del controllo neurale satellitare blogspot.it ho oltre 300 e passa mila visualizzazioni ma in tutti i miei blog che io ho ricercato nei fenomeni spiegabili nel mondo cioè tra tutte le visualizzazioni arriverò oltre a un milione di visualizzazioni solo sui miei blog quindi questo magistrato ex magistrato mi dice a me che io quando ho cercato di aiutarlo ovviamente quando ho cercato di contattarlo per fare dei convegni delle conferenze insieme sai perché lo vedevo che era giù a me alcune persone che lo conoscono questo ex magistrato mi hanno detto dice è giù guarda tante volte con gli occhi al cielo non capiamo se lo fa apposta oppure se lo stanno attaccando con le armi ad energia diretta lo stanno attaccando con i satelli di spia con le armi psicotroniche lo stanno attaccando con le frequenze infrasoniche o le frequenze biofotoniche o le frequenze neuroniche e tutte queste persone mi hanno detto ma valla aiutare cercano di aiutare prova a cercare di fargli capire che non è come dice lui che tutto quello che denuncia sembrano delle denunce da persone malsane di mente da persone disinformatrici allora io gli ho detto sì però se questo ex magistrato non conosce come funzionano i sistemi del controspionaggio e dell'intelligence e non conosce come funzionano i sistemi radar satellitari perché non è un tecnico come me che io sono vent'anni che studio solo tecnologie militari e che mi sono informato con centinaia di libri ricerche avrò fatto due trecento interviste con tutti i personaggi molto importanti ricercatori molto importanti di corrata una larga tantissime persone che praticamente sono studiosi ho fatto studiavo e facevo delle ricerche con Stefano di Fece e Mirtillo e ho fatto tantissime ricerche e studi con molte persone importanti Rosario Marciano ma tante persone molto importanti che praticamente studiano da anni e fanno ricerche da anni su questo campo e sull'elettroinquinamento sui campi elettromagnetici io ho cercato di dargli una mano a questo ex magistrato di Roma che poverino da quello che mi hanno detto anche persone che lo conoscono che una certa volta fa cose strane dice cose strane cambia le parole ti scrive messaggi tutti scritti in un certo modo una persona che conosco un ragazzo che conosco l'ha contattato e gli ha detto dice perché non fa un convegno con Emiliano Babilonia e parlate del controllo mentale dell'MK Ultra e del Monarch su un social network gli ha scritto tutte parole brutte su di me che io sono un disinformatore che mi voleva denunciare che mi voleva querelare per le cose che io scrivo per le cose che io dico su web perché lui ha capito tutto cioè questo ex magistrato ha capito tutto e io non ho capito niente ma io ho denunciato 21 volte in procura le alte tecnologie i satelliti spia i pedinamenti a tracciatura satellitare con le sperimentazioni e collaudi delle frequenze infracraniche con un elettroencefalografo che spara determinate frequenze sul corpo modificando la risonanza sensoriale attraverso tre tipi di arma fondamentali uno è un sistema GPS triconometrico satellitare che ti spara un puntamento sul corpo penetrando nei centri nervosi centrali un altro è un'arma biofotonica che penetra attraverso gli occhi un altro è un'arma infrasonica che è una delle armi che usano su questo ex magistrato che gli fanno sentire dei suoni o gli fanno credere che lui sta sentendo dei suoni ma che in realtà vengono manipolati da un sistema chiamato narcolessia indotta e mi hanno detto alcune persone che questo ex magistrato non dorme più durante la notte che riempie tutta casa di cimici, di microspie che i suoi parenti sono disperati dentro casa perché ovviamente l'attacco del sistema MKU del sistema Monarch che mi hanno fatto anche a me ti fanno credere che tutti quanti stanno contro di te che tutti ce l'hanno con te e vengono fraintese delle parole invece che altre magari ti dice una persona ah non fare questo perché sennò ti potresti ti potrebbe succedere questo invece la persona crede come se ti vuoi offendere questo ex magistrato dicendo di ah non fare questo ma fai quest'altro infatti una persona che conosce questo ex magistrato ha detto che praticamente le sue denunce sono state tutte archiviate perché non hanno nessun fondamento si sentono dei suoni registrati con un registratore che non è professionale con un microfono che non è professionale con un programma che magari non è neanche capace ad utilizzare perché Audacity va utilizzato in un determinato modo e ci sono addirittura dei settaggi all'interno di Audacity dove si può eliminare il rumore di fondo e sentire solamente quei suoni che si vogliono ascoltare io ho fatto l'analisi di tutte le sue registrazioni di questo ex magistrato e non si sentono le parole che lui dice perché la manipolazione del sistema MKUltra e Monarch crea allucinazioni autovisive attraverso la manipolazione delle frequenze alternate che vengono sparate sul suo corpo e il magistrato ex magistrato crede di sentire crede di capire crede di percepire un qualcosa che non è una cosa che capisce lui e che percepisce lui ma che gli viene immessa da un programma che riprogramma il ragionamento logico il suo ragionamento logico me l'hanno fatto pure a me questo dal 2001 al 2003 mi facevano questi giochetti di programmazione mentale mi facevano sentire delle frasi all'interno della mia testa mi facevano ridurre determinati ragionamenti che non erano ragionamenti reali erano ragionamenti distorti ma quando ho capito come funzionava questo gioco simulatore a realtà virtuale non ci ho più creduto non ci sono più cascate a questi giochetti ma qui parliamo che ho fatto la prima denuncia nel 2001 e ho denunciato che rilevavo delle frequenze anomale fortissime sui miei telefonini e l'ho portata immediatamente in procura con il mio avvocato quindi io ho voluto dare una mano a questo ex magistrato per con le mie esperienze tecniche essendo che sono un tecnico un periodo tecnico essendo che sono esperto di alte tecnologie sistemi avanzati sistemi di pedinamento intercettazioni eccetera 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 perché l'ho studiato su come chi operava attraverso questi sistemi deviati questi collaudi e queste manipolazioni di queste tecnologie le collaudavano su di me e ho 150 interviste con le vittime del controllo mentale che potete trovare sui miei canali dove io ascolto quello che dicono queste persone e insieme cerchiamo di capire come gli attacchi e le manipolazioni e le frequenze vengono utilizzate su ogni singolo individuo io ho cercato solamente di aiutare questo ex magistrato farlo venire ai miei convegni addirittura io ho detto facciamo un convegno a Roma preparo tutto io la sala preparo tutto io le strumentazioni preparo io tutto quanto e lì viene a parlare sul palco ha detto di no che io sono un disinformatore ovviamente tutte queste parole lui le dice io lo so perché le dice perché il programma di manipolazione mentale e di controllo mentale gli fanno pensare e dire e modificare determinate frequenze sul suo corpo facendolo diventare una sorta di invidioso verso di me perché io ho successo su tutti i canali mi vedono tutti mi arrivano centinaia di mail di persone che mi fanno i complimenti molte persone vengono a tutti i miei eventi e ovviamente è una sorta di manipolazione indotta che simulano nel suo cervello le frequenze della rabbia e dell'odio verso i miei confronti le frequenze dell'invidia verso i miei confronti ma io lo so che è tutto simulato perché è solo una tecnologia che gli sparano in testa che gli fanno sentire delle anomali frasi su anomali registrazioni ma che in realtà sono loro che le mettono in testa queste frasi e queste registrazioni io posso dire solamente una cosa a tutte le persone che stanno vicino a questo ex magistrato di Roma io lo so come funziona il sistema MK ultra il sistema Monarche e il sistema della manipolazione del ragionamento logico perché me l'hanno fatto pure a me questo giochetto per anni me l'hanno fatto quindi ex magistrato esca da questo da questo guscio di radiazioni da questo blocco che gli stanno creando esca da quella casa non stia sempre ranchiuso dentro quella casa esca incominci a vedere l'esterno incominci a capire incominci a ragionare che non è come dice lei che io sono un disinformatore ma lei non si accorge di essere manipolato dal sistema Monarche dal sistema MK ultra e questo è la priorità del sistema creare lo stato ipnotico lo stato narcoletico lo stato di sonnambulismo e poi la incominciano a pilotare con questi sistemi di manipolazione radiodeduttiva e lei crede di sentire qualcosa ma in realtà non sente niente oppure gli immettono nei condotti uditivi delle frasi che lei crede di sentire ma in realtà quando registra non sente niente io ho fatto centinaia di registrazioni audio centinaia di analisi analisi spettroscopiche dell'audio analisi con vari filtri vari digitalizzatori vari processori audio perché sono un tecnico e quindi so come vengono fatte queste cose io ho voluto dare una mano a questo ex magistrato per cercarlo di aiutare per cercarlo di far capire le persone che seguono ovviamente le mie ricerche i miei canali le mie interviste la mia radio web è Babilonia Springer oltre 5.000 persone oltre 100.000 ascolti cioè sono cifre molto elevate io volevo solamente aiutarlo a fargli capire che questo è un simulatore che viene immesso sul suo corpo attraverso un satellite spia in orbita bassa che crea determinate frequenze e che quelle frequenze penetrano i condotti uditivi penetrano gli occhi e penetrano i centi nervosi centrali e creano delle sintomatologie addirittura mi hanno detto alcune persone che il magistrato se gli dice una parola oppure che ne dice un'altra lui fraintende subito l'ex magistrato e incomincia a rispondere male alle persone o incomincia a dire che lui ha capito e che gli altri non hanno capito niente quando voi dite io ho capito vuol dire che non avete capito niente io sono vent'anni che studio questa tecnologia questi sistemi di spionaggio questi sistemi di pedinamento questi sistemi di controllo questi sistemi di manipolazione sono vent'anni che ancora sto imparando studio e imparo studio e imparo per capire per capire come funziona questo sistema e purtroppo determinati magistrati non possono essere a conoscenza di determinate tecnologie utilizzate dall'intelligence e dal controspionaggio o da agenzie militari sopra istituzionali segrete che non possono essere dette queste tecnologie che sono il massimo segreto il massimo segreto militare esistente nel mondo a dei magistrati perché l'intelligence e il controspionaggio stanno al di sopra del di sopra del di sopra di chi opera con queste tecnologie questi non hanno bisogno dei magistrati per effettuare spionaggio sulla popolazione questi non hanno bisogno dei magistrati o di permessi per operare con determinati sistemi di arma a caneto di caronia non è mica dovevano chiamare il magistrato per far sparare le armi ad energia diretta non deconvogliate su tutto il paese di caneto di caronia queste sono armi di distruzione di massa che operano attraverso tecnologie con frequenze di gigawatt che sparano frequenze al plasma frequenze biofotoniche o frequenze fotoniche o frequenze laser sono tecnologie di controllo e di spionaggio delle masse controllano tutti i dispositivi possibili immaginabili questo loro fanno e purtroppo molti non l'hanno capito questo e si credono ancora che la persona dentro casa il vicino quello di sotto quello di sopra lei deve cercare di capire che io la voglio aiutare ex magistrato di Roma io la voglio aiutare a fargli capire che è una tecnologia non sono le sue deduzioni lei crede e sente delle frasi e delle parole che vengono indotte dal sistema non le sente realmente perché se no lei se non segue i miei consigli la prenderanno come un pazzo la prenderanno come un malato di mente la prenderanno come uno schizofrenico come una persona bipolare e gli faranno fare i TSO gli daranno a forza un accompagno un tutore perché lei non avrà più la capacità di intendere di volere per le persone che la circondano quindi quindi siccome io quando ho creato il mio canale di Youtube ho scritto Angeli Custodi MK Ultra Italia che io sono un angelo custode e proteggo le persone da MK Ultra Italia io la voglio proteggere magistrato di Roma però lei deve capire che con la manipolazione mentale che sta subendo attraverso queste armi e queste tecnologie e se ne sono accorte molte persone perché anche ai convegni anche su vari vari posti dove dove la vedono in vari locali eccetera eccetera capiscono che c'è qualcosa che non quadra lei deve capire che la manipolazione del ragionamento e la manipolazione del pensiero è una delle armi di questo sistema Monarch Manchurian Candidate stati ipnotici narcoletici sonnambulismo perdita della memoria temporanea perdita dell'aggiornamento logico e cambi di umore improvvisi cambi di aggressività cambi di 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 stato di stato di ansia questo lo crea proprio quest'arma questa tecnologia satellitare segua i miei video segua le mie interviste testimonianza beta i miei analizzatori che io sto utilizzando per capire e studiare quale tipo di frequenza usano io uso un elettroencefalografo se lei vuole magistrato ex magistrato io mi incontrerò con lei e faremo un'analisi con l'elettroencefalografo con il mio elettroencefalografo faremo un elettroencefalogramma con il mio elettroencefalogramma cioè con il suo con il mio elettroencefalografo faremo un'analisi su di lei e faremo delle analisi per vedere le frequenze bioelettriche del corpo per capire con quale tipo di arma e con quale tipo di tecnologia la stanno attaccando e in più faremo un'intervista insieme dopo tutto quello che lei ha scritto su di me che sono un disinformatore che lei mi voleva denunciare che lei è di qua che lei è di là io invece gli do la mano io io la voglio accudire la voglio proteggere ex magistrato per fargli vedere che io non ce l'ho con lei ma che è lei che fraintende le mie parole lei che fraintende quello che io sto facendo e che lei fraintende le mie ricerche io ho creato un'associazione a Roma per le vittime del controllo mentale inglobata in un'altra associazione che ingloba altre quattro associazioni proprio per tutelare le persone come lei che vengono attaccate con queste armi di manipolazione radiocognitiva un saluto a tutti amici da ricercatore indipendente Emiliano Babilonia voglio ricordare per tutte le vittime che vogliono fare le nuove testimonianze sulla mia radio web o sul mio canale Emiliano Babilonia YouTube oppure sulla mia radio web Emiliano Babilonia Sprico oppure sulla mia seconda radio web Emiliano Babilonia Mixcloud vi lascio le mie mail vittime del controllo neurale chiocciolagmai.com e ricordatevi questo magistrato non è una persona malata di mente ma è una persona che viene pilotata attraverso una tecnologia un programma di controllo mentale MK Ultra e Monarch e gli fanno credere e gli fanno sentire e gli fanno cambiare stati di umori di ansia con sintomologie della bipolarità sintomologie della schizopenia sintomologie del bipolarismo multiplo e gli fanno eccetera 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 perché gliele creano queste cose non è lui lui è una brava persona e lui non ha questi disturbi e lo devono capire pure i magistrati che stanno seguendo il suo caso e che lo vogliono a forza non dico rinchiudere ma che gli vogliono fare a forza dei TSO oppure lo vogliono addirittura tenere sotto un tutore per controllare quello che lui fa ovviamente l'attacco e la manipolazione con queste tecnologie può creare un cambiamento di personalità totale che può fargli fare anche dei gesti disperati e quindi io lo volevo aiutare proprio per cercare di non fargli fare dei gesti disperati e fargli capire che è solamente un simulatore che è solamente una tecnologia che crea che serve per creare lo spionaggio sulla sua vita e che spiano tutti i suoi telefoni spiano tutti i suoi computer come fanno a me a me mi spiano tutti i telefoni mi spiano tutti i computer mi spiano con un localizzatore GPS satellitare che vede in continuazione dove mi sposto e qualunque posto io dove sto la stessa cosa fanno con lui e poi loro manipolano i ragionamenti per farlo perdere di credibilità per farlo diventare una persona mazzana di mente è questo che loro vogliono un saluto a tutti amici del ricercatore indipendente Emiliano Babiloni grazie a tutti